la cattedrale qui alla Toscana in bocca si è riempita, grazie anche a Ante sì, tanto affluenza di pubblico, ovviamente Ante non poteva mancare a questa occasione e spero che le persone si avvicinino ai nostri volontari e facciano un'offerta ecco, scusa Benedetta, oltre alle offerte che si possono fare qui Ante è anche disponibile per raccogliere il 5x1000 degli italiani certo, certo, ovviamente tra un po' c'è la dichiarazione dei redditi sì, ricordiamo che il 5x1000 è gratuito, cioè non è un costo in più per le persone e quindi dovrebbero tenere conto quindi possiamo dirottare parte delle nostre tasse a sì, sì e tra l'altro oggi abbiamo una volontaria sì, abbiamo una volontaria particolare che è Elena Gigli medaglia d'oro alle Olimpiadi del 2004 ad Atene ovviamente portiere della Prato Water Polo una squadra sportiva di palannuoto femminile in Serie A che è vicina ad Ante benissimo e alla Toscana in bocca e alla Toscana grazie Benedetta grazie